Allora, dammi i dettagli croenti, figlio numero uno. È un vero massacro, papà. Hanno fatto secchi tutti gli invitati al matrimonio, un'esecuzione. Dammi una cifra. Nove cadaveri. E parliamo di tutta l'allegra comitiva. Sposa. Sposo. Reverendo. Moglie del reverendo. Hanno sparato anche a quello di colore che suonava l'organo. Forse qualcuno contrario al matrimonio non è riuscito a tacere per sempre. Porca di una miseriaccia infame. Che ti avevo detto, papà? Sembra che è passato uno squadrone della morte nicaraguegno, cazzo. Lavati quella boccaccia di merda. Sei in un luogo di culto, cazzo. Scusa, papà. È un lavoro da professionisti. A occhio e croce, sicari della mafia messicana. Quattro, forse cinque killer. Come fai a dirlo? Non è opera di un dilettantesco internato. È gente dalla manoferma. Questo è il lavoro di uno navigato. Si intuisce dalla precisione nella carneficina. Vedi, per quanto sia evidente la folia assassina, hanno fatto un lavoro senza sbavatura. Se uno fosse un maniaco potrebbe quasi ammirarli. Chi è la sposa? Non si sa. Sul certificato di matrimonio c'è scritto Arlen Machiavelli. Ma è falso. Noi l'abbiamo chiamata la sposa per via del vestito. Si vede bene che è incinta. Solo un cane rabbioso può aver sparato in testa una ragazza così carina. Guardala. Capelli color grano. Occhi grandi. Un angioletto imbrattato di sangue. Figlia numero uno? Sì. Questa apertica succhiacazzi è ancora viva. Sì. Que sta'lando. Di ven